Zona gialla per l'Emilia-Romagna, fino a quando i parametri di valutazione non cambieranno, e nuove norme in tutta Italia, in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza fissata per il 31 marzo. Sono le novità scattate oggi per far fronte alla diffusione del virus covid. Diventa obbligatorio il super green pass o green pass rafforzato che si ottiene se si è vaccinati o guariti per utilizzare i mezzi pubblici da navi e aerei fino al trasporto locale, per partecipare a feste, banchetti e congressi, per entrare in albergo, per la ristorazione anche all'aperto, per accedere a centri sociali, culturali e ricreativi anche all'aperto, per accedere a palestre, piscine e impianti di risalita. Il green pass base, quello che si ottiene anche senza vaccinazione ma con un tampone negativo, sarà necessario per entrare in negozi e attività commerciali, per accedere a pubblici uffici, bancari e finanziari e servizi postali. Nessun pass sarà richiesto per entrare in negozi che vendono generi alimentari, nelle farmacie e nei servizi che soddisfano le esigenze essenziali e primari della persona. Le nuove norme, varate il 5 gennaio scorso, vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore e che prevedono l'obbligo di indossare la mascherina, almeno quella chirurgica, all'aperto in tutta Italia, mentre la FFP2 deve essere obbligatoriamente indossata sui mezzi pubblici di trasporto, l'obbligo di essere vaccinati per i lavoratori dei settori sanitario e scolastico, per i lavoratori esterni dell'RSA, per le forze dell'ordine e poi l'obbligo di Green Pass base per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, l'obbligo di Super Green Pass per entrare in bar e ristoranti al chiuso anche per consumare al bancone, per accedere a palestra e piscine al chiuso e in luoghi dello spettacolo. È stato di fatto introdotto anche l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e privati di età superiore 50 anni sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario che viene così equiparato a quello scolastico. Per quanto riguarda la zona gialla, le differenze con quella bianca sono praticamente nulle perché la necessità del Green Pass rafforzato è già obbligatoria presso che ovunque tranne che nei negozi per i servizi essenziali.